Ha parlato di De Profundis del tessuto imprenditoriale molisano la consigliera regionale di centrodestra Angela Fusco Perrella commentando gli ultimi dati di Union Camere Info Camere, dati quelli del primo trimestre di quest'anno, ha detto che smentiscono i continui spot del governo Frattura su crescita e ripresa le porte. Fusco Perrella ha evidenziato la diminuzione delle nuove imprese avviate rispetto allo stesso periodo del 2016, 168 in meno e come il tessuto imprenditoriale si sia impoverito di 256 unità ponendo il Molise al penultimo posto in Italia. Fusco Perrella ha rimarcato poi che sempre nel primo trimestre del 2017 su un totale di 3.551 imprese giovanili, under 35 censite, solo 179 sono nuove, l'anno scorso erano 271 dati che ha spiegato restituiscono un tasso di crescita dell'1,87% il peggiore in Italia. E' aggiunto, non può certo consolare l'incidenza del 10,1% sul totale delle imprese registrate che pone il Molise al sesto posto, comunque in discesa rispetto all'anno scorso. Sul dato negativo delle imprese giovanili, Fusco Perrella ha detto ancora che questo di certo contribuisce alla difficoltà di disegnare prospettive, restando la carenza di strumenti messi in campo dal governo regionale. Ha salvato gli ultimi interventi per i giovani sul PSR 2014-2020 che, ha voluto però precisare, hanno ripreso la buona prassi per la precedente programmazione sul primo inserimento. Con il meccanismo dello stop and go, ha ricordato, si sono raccolte 310 domande di aiuto, di cui 160 hanno attivato per le misure del pacchetto giovani una spesa pubblica di 20 milioni. Secondo Fusco Perrella, i dati di Union Camere e Infocamere sarebbero stati più negativi se l'attuale governo regionale non avesse trovato in eredità dal precedente, quello Iorio, i 5 milioni stanziati con il piano integrato Giovani Molise 2011-2015 e i 5 milioni e mezzo del pacchetto Giovani, i contributi per le start-up e gli strumenti in dote, affin Molise. La consigliera di centro-destra si chiede quindi cosa abbia fatto Frattura in questo contesto, oltre a riprogrammare quanto messo in campo dal governo precedente. Perché non sono stati progettati nuovi strumenti per la ripresa produttiva, perché si va a rilento con la programmazione europea 2014-2020 e una volta pubblicati i bandi, ci saranno imprese che potranno avere i fondi, ci saranno i tempi tecnici per le procedure e infine perché nel patto per il Molise non sono previsti strumenti per sostenere in particolare l'imprenditoria femminile e giovanile, come fatto in Calabria e Abruzzo.